Ciao a tutti, benvenuti nel nostro canale. Oggi sono qui per svelarvi le 5 incredibili novità di FIFA 24, il videogioco che sta per rivoluzionare il mondo del calcio virtuale. Preparatevi a rimanere sbalorditi. Iniziamo subito con la prima novità sorprendente. La modalità carriera. FIFA 24 ha portato questa modalità a un livello completamente nuovo, offrendo un'esperienza di gestione di squadra ancora più realistica. Ora potrete immergervi nel mondo finanziario del calcio virtuale e prendere decisioni cruciali per il successo della vostra squadra. Ma le novità non finiscono qui. FIFA 24 Ci sorprende anche con la tecnologia Hypermotion. Grazie all'utilizzo di algoritmi di machine learning e cattura dei movimenti, i giocatori avranno animazioni incredibilmente realistiche e movimenti fluidi sul campo. Vi sembrerà di essere lì in mezzo all'azione. E che dire della personalizzazione avanzata? FIFA 24 vi permetterà di creare personaggi e squadre uniche. Potrete personalizzare ogni dettaglio, dall'aspetto fisico alle abilità dei giocatori. Ogni partita sarà un'opportunità per mostrare la vostra creatività e stile. Ma non è tutto. La grafica di FIFA 24 è semplicemente mozzafiato. Gli sviluppatori hanno dedicato particolare attenzione ai dettagli degli stadi, dei giocatori e all'atmosfera generale delle partite. Vi sembrerà di essere in uno stadio vero e proprio, pronto a vivere l'emozione del calcio a ogni fischio d'inizio. Infine, FIFA 24 ha introdotto la modalità cooperativa online. Ora potrete formare una squadra con i vostri amici e affrontare sfide online insieme. Combinate le vostre abilità, create strategie vincenti e godetevi l'emozione di giocare in squadra nella modalità multiplayer di FIFA 24. Ecco a voi le 5 incredibili novità di FIFA 24 che vi lasceranno senza parole. Questo gioco promette di portare il calcio virtuale a un livello superiore e di offrire un'esperienza di gioco indimenticabile. Grazie per averci seguito oggi. Non dimenticate di lasciare un like se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati sulle ultime novità del mondo dei videogiochi. Ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti.